Allora, sono al parcheggio della stazione di Stimigliano e inizierò il mio giro da qui. Il posto è comodo, ci si può arrivare tranquillamente anche col treno. Dopo due chilometri siamo già su una strada serrata, che è quella che percorreremo per gran parte del giro, che costeggia la sponda del Tevere e il paesaggio è già molto bello. Sullo sfondo appunto il fiume e il monte Sorate, questo posto dove sono adesso che è il ponte Ponticello, insomma sul torrente Aglia. Sono nel piccolo borgo di Foglia, che è veramente un gioiellino, è un piccolo borghetto con una piazzetta, una porta e questo è ciò che si vede affacciandosi dal balcone che c'è proprio all'interno del borgo. Sono circa al chilometro 22 del giro e in questo momento mi trovo sull'altra sponda del Tevere, Tevere che ho attraversato sul ponte della Flaminia. Il chilometro 37 e il paesaggio si apre su una splendida pianura sullo sfondo della parte nord del monte Sorate e di fronte a me tutto un bellissimo viale con i pini alberato e alla mia sinistra tutto un campo verde veramente. Il giro sta per finire, quello lì giù è stimigliano, in totale sono poco più di 40 chilometri ed è un giro piacevole senza particolarità tecniche. A chi fosse venuta voglia di volerlo rifare vi lascio il link in descrizione da cui si può scaricare la traccia GPS. Iscrivetevi nei commenti se il giro vi è piaciuto, se avete qualche suggerimento. Se i contenuti di questo tipo vi piacciono iscrivetevi al canale. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo giro.